Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Questo è il motto del Banco Alimentare, che in occasione della 27esima giornata nazionale della colletta alimentare, sabato 18 novembre, invita al dono, alla carità e alla generosità. L'iniziativa 2023 è stata presentata a Gualdo, nella sala municipale del Comune, con la partecipazione del Sindaco Presciutti, che ha elogiato lo spirito di partecipazione della comunità, a testimonianza di come anche il più piccolo contributo può in realtà fare la differenza. La Fondazione, dal 1989, vuole sensibilizzare la società sul tema della povertà, della mancanza e dello spreco, invitando a donare una parte della nostra spesa alle persone in difficoltà, per non permettere che nessuno si senta solo. È il momento di fare tutti di più e meglio, perché sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese. E' questo l'allarme lanciato dall'organizzazione. Quest'anno in Italia sono 14.000 i supermercati adierenti alla colletta alimentare e anche a livello regionale si può contare su una larghissima adesione, da parte anche di piccoli generi alimentari, attività economiche e oltre 206 associazioni e moltissimi volontari. Io vorrei lanciare proprio la colletta alimentare che si svolgerà sabato prossimo, sabato 18 novembre, in tutti i supermercati d'Italia e in Umbria hanno aderito 283 supermercati, diciamo che già sono più di 10 in confronto all'anno 2022. Questo ci permette di recuperare cibo a lunga scadenza e ci permette un 10% di quello che noi anno scorso abbiamo distribuito, perché anno scorso abbiamo distribuito 1.447.000 kg di alimenti. Perciò un 10% vuol dire tanto per noi, ma vuol dire tanto anche per le persone che ovviamente stiamo aiutando. L'anno scorso è andata molto bene la giornata della nazionale della colletta alimentare qui a Guadalatadino. Per la prima volta siamo riusciti a coinvolgere tutti gli esercizi commerciali, tutti i negozi di genere alimentari del comune di Guadalatadino, quindi non più limitato a solamente supermercati, ma in tutti i negozi. Sono 12 negozi di genere alimentare in tutto il comune di Guadalatadino, abbiamo fatto in tutti e 12 grazie alla disponibilità di tantissimi volontari e associazioni, oltre 20 associazioni, che hanno contribuito a una grandissima raccolta. Troverà all'ingresso dei supermercati i volontari riconoscibili con la pettorina della giornata della colletta alimentare, gli sarà distribuita una busta con un deprian, con i prodotti che noi andremo a consigliare, che sono più o meno i soliti, olio, pelati, carnicato, legumi omogenizzati, pasta, eccetera. E poi all'uscita troveranno i volontari stessi che raccoglieranno quanto la gente avrà voluto donare.